Sindaco, commemorazione dei defunti, nelle scorse ore una lettera pubblica di Enzo Quaratino, firma dell'ANSA nazionale Lucano, che ha parlato di cimiteri di serie A e serie B, riferendosi al monumentale di San Rocco e Giovanni Paolo II. Cosa si sente di dire? Allora, noi abbiamo adottato tutta una serie di misure finalizzate alla sicurezza degli utenti del cimitero. Va detto innanzitutto che il cimitero monumentale è gestito dal Comune, il cimitero nuovo è gestito da una società privata che comunque non deve esimersi dall'effettuare controlli rigidi. Quindi è stato richiamato, ci sono state segnalate da alcuni utenti la mancanza di controlli, abbiamo richiamato il gestore e siamo sicuri che nella giornata di oggi andrà decisamente meglio. L'invito peraltro a differire magari la visita quest'anno. Sì, abbiamo invitato i cittadini, soprattutto quelli di potenza, ad evitare di assembrarsi nei giorni in cui tradizionalmente si fa visita ai defunti. Questo perché c'è tutto l'anno per poterlo fare, magari consentendo invece a chi è venuto da altre realtà territoriali o da fuori regione di poter fare una visita ai propri cari. Sono state rispettate veramente alla lettera tutte le norme previste dal DPCM, è stata rilevata la temperatura e gli ingressi, i sanificanti per le mani erano presenti in ogni dove, c'erano delle navette riservate alle persone disabili ed erano contingentati gli ingressi. Questo, ripeto, deve valere per tutti, sia per il cimitero monumentale che per quello nuovo, affinché tutti possano recarsi in sicurezza a fare un saluto ai propri cari.